secondo me Dio non permetterà la manipolazione dei cervelli egli ha creato l'uomo e gli ha donato il libero arbitrio l'uomo non può diventare un burattino nelle mani di loschi burattinai il neuroscienziato James Giordano immagina il cervello come un computer hackerabile a cui si può accedere per prelevare, caricare o modificare i files ossia la nostra memoria stimolazione a ultrasuoni focalizzati se riusciamo ad immaginarci la portata di questa tecnologia nelle mani sbagliate allora capiremo perché James Giordano definisce la mente come il campo di battaglia del futuro la neuromodulazione è un campo di ricerca legittimo che esplora come stimolare il cervello per trattare varie condizioni mediche come la depressione e il Parkinson tecniche come la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione a ultrasuoni focalizzati sono oggetto di studi sebbene il concetto di hacking del cervello sia stato esplorato nella narrativa di fantascienza in realtà il controllo preciso dei pensieri delle memorie o del comportamento umano tramite onde sonore o altre tecnologie è ancora ben oltre le capacità attuali della scienza la neurotecnologia può influenzare alcuni aspetti del funzionamento cerebrale ma non ha ancora il livello di precisione e controllo funzionale James Giordano è un neuroscienziato e bioeticista che ha discusso delle implicazioni etiche e militari delle neuroscienze avanzate egli ha effettivamente parlato della mente come un potenziale campo di battaglia futuro ma il suo contesto è generalmente speculativo e teorico volto a sollevare preoccupazioni etiche piuttosto che descrivere capacità tecnologiche concrete attuali la scienza moderna non è ancora in grado di controllare o modificare il pensiero umano in modo così diretto e preciso tuttavia la ricerca nelle neuroscienze solleva legittime preoccupazioni etiche su come tali tecnologie potrebbero essere usate o abusate in futuro ribadisco che secondo me Dio non lo permetterà egli ha creato l'uomo e gli ha dato il libero arbitrio affinché sia a sua immagine e somiglianza non permetterà che l'uomo diventi un burattino nelle mani di loschi burattinai il male non trionferà